La veste è quella di Totò di Natale, ma come potete vedere sono sempre io, ho partecipato da spettatrice alla partita, quella tra Udinese e Juventus, su un grande match che ha visto protagonista, soprattutto Dacia. Dacia per un'iniziativa importante che riguarda proprio gli sport minori, non per importanza, ma per capacità economiche, quindi la possibilità di essere così sponsorizzati sulla squadra di Serie A per ben tre giornate. Di che cosa si tratta? Seguite il servizio e poi ve lo raccontiamo. Dopo il successo di Dacia Sponsoredena 2014, 7 milioni di telespettatori, tantissima iscrizione e tanta visibilità a livello nazionale di questa operazione, abbiamo deciso di riproporla però a un target totalmente diverso. Piccole società sportive affigliate al CONI, sono oltre 50 mila in Italia, sono oltre 3 milioni di atleti che lavorano sodo, ma non hanno i mezzi per aumentare la visibilità. Noi abbiamo dato quest'anno la possibilità a questi atleti, a queste piccole società, di sponsorizzare tre partite di Serie A importanti del campionato e rendere visibile il loro nome. Quindi è un'iniziativa davvero importante che regala tanta visibilità. Allora, quali sono le regole per candidarsi e riuscire così ad ottenere la partecipazione a una di queste tre giornate? Basta iscriversi al sito daciasponsorday.it da domani, dunque dal 2 di febbraio fino al 2 di marzo, devi spiegare come lavori, qual è il tuo stile di lavoro, come ci arrivi a certi obiettivi e risultati e poi ci sarà una giuria che fino al 30 marzo, una giuria presieduta dal Giovanni Malagò, il presidente del CONI, che deciderà quali saranno i tre campioni. Quindi è un'iniziativa davvero importante che vede Dacia così protagonista nel mondo dello sport, ma questi sport sono degli sport minori, non conosciuti alcuni. Vogliamo un po' elencare alcuni? Sono tutti gli sport possibili e immaginabili, dal ping pong al badminton, al rugby, alla pesca sportiva. Sono tanti gli sport e sono tanti gli atleti che appunto vorrebbero avere più visibilità. La partnership quindi con l'Udinese Calcio risale al 2009, quindi una storia importante, una storia lunga. Quali sono i valori che vi accomunano a questo sport? Sono cinque anni che lavoriamo con loro e lavoriamo in modo eccelso perché appunto abbiamo questi valori che condividiamo, che sono la concretezza, la trasparenza, l'onestà e la voglia di lavorare. Ma all'interno di questa importante iniziativa Dacia e insomma il mondo del calcio e tutto il mondo dello sport è unito da una stella comune che è quella del CONI. Il CONI ha creduto molto in questa nostra operazione per appunto supportare tutto lo sport italiano. Le 50.000 associazioni sportive al quale facevo riferimento prima sono chiaramente quelle affiliate al CONI e si trovano su CONI.it.